Ciao, sono Anna, sono una giornalista, mi occupo di turismo e benessere. Sono guida di Forest Bathing. Da qualche anno sono venuta alla Teis perché mi sono innamorata di questa località del comune di Sauris. Oggi ti propongo di scoprire insieme a me quanto sia preziosa e particolare l'aria di Sauris. Sarà un'occasione per lasciarci stupire dalla bellezza del paesaggio, per soffermarci sui dettagli, per darci tempo. Affronteremo l'avventura con l'idea di riprendere il fiato per imparare magari a liberarci dallo stress. Qui l'aria è importante anche per la stagionatura di prodotti tipici come il prosciutto del prosciutificio Wolf o il formaggio di Malgal Tacarnia. La sua purezza incide sulla qualità dell'ambiente, sull'intensità dei respiri che sperimenteremo nel corso di un vero bagno di bosco, oppure mentre impareremo un tipico canto saurano dopo una cena intorno al falò. Quest'aria è così pulita e rende il cielo di Sauris uno dei più limpidi d'Italia, per questo potremo godere di un'indimenticabile vista notturna sulla nostra galassia. Sono certa che sarà una splendida avventura da vivere insieme, condividendo le emozioni, gli incontri, i sorrisi, per respirare insieme una nuova aria. Ti aspettiamo!